Allora, hola ciche, hola cichi, ciao belli, ciao belle, mi è già andato via il russetto, cazzarola, allora, scusate faccia a culo, stavo guardando mia il grande fratello, grande mia, se è una romanaccia me devi insegnare a parlare romano, me devi insegnare, me piace troppo il romano, me fa tagliare, allora, scusate me lo rimetto ma è andato via il piano, perché l'avevo girata con quell'altra macchina, ho deciso di girarlo con questa perché mi ci vuole meno a caricarlo, se no ci vuole un botto. Allora, come avrete visto dal titolo, questo è un giveaway, il giveaway fatto da Semidress, allora, innanzitutto, grazie perché siamo sempre di più, quindi io vi adoro, vi lovo, no davvero ho una faccia, è inguardabile, c'è fobita. Come avrete visto è già finito, ho già messo anche i nomi delle vincitrici dei mascara, perdono, devo ancora spedire a Cinzia e a Rihanna il giveaway della Yesenfi, buonanini, però, perdonatemi, ho avuto un periodo un po' così e più andam posta a me invece vuole, perché purtroppo mi tocca farmi accompagnare, insomma, è lunga, però non vi preoccupate, spedirò, sono un po' lenta ma spedisco. Allora, questo è un giveaway che fa Semidress per voi, durerà un mese, le vincitrici non mi ricordo quante saranno, ma comunque vi lascio tutto scritto nel infobox, vi pareva che non si scaricasse, quindi, e poi io volevo farvi dire un'altra cosa ora, ve la faccio vedere, quindi vi lascio comunque tutto nell'infobox, questo giveaway durerà un mese, come vedete sto cercando di fare un video dopo un altro perché ve lo meritate e ve li meritate veramente troppo, quindi più che posso e più che faccio. Allora, siete a sedere, siete sedute? Stateci, ho una notizia che vi potrebbe fare cadere da sedia. Allora, io sapevo mi dovevano inviare un set di pennelli, io oggi arrivo a casa e vedo una scasola così. Siete pronte? Ah, ragazzi, mettetevi a sedere, date retta a me. Siete a sedere? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Tutte le beauty blender. Allora, brava Kami, ho ribaltrato il piattino del gatto. Allora, come sapete io alcuni di i pennelli ce l'ho già e sono questi della Beauty and Trend. Questi qua. Visto che alcuni ce l'ho già, sappiate che alcune cosine della scatola sarà un vostro giveaway. Ci sono rimasta del merda. Cioè, vabbè. Ho un sacco di quelle cose da recensire e non so veramente come caspiterina fare. Quindi domani spero di tornare a casa alla svelta e di riuscire a fare un video perché veramente sono molto molto indietro. Va bene. Allora, spero che questo give, 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 vi piaccia. Vi mando un bacione, vado a guardare mia e poi vado a letto perché tutta la settimana è così. Vi mando un bacio in mezzo, rock'n'roll, yeah! Ciao belle, ciao belli. Ah, scritto tutto giù, eh? Ok? Ciao! Sì, andavo da dietro a spengere. Mmm!